Devi revisionare il tuo mezzo e non sai dove andare? Ma non c'è problema! Zetar Motor Group di Alessio Puro, a Mussana di Ferreira, FIA Armea 111, per avere i tuoi reti sempre al top. Andiamo a vedere con la nostra mobiola l'episodio che ha sbloccato il risultato di Atletico Argentina Riva Libero, una punizione di Alfredo Cariello al limite, viene intercettata con un braccio, l'arbitro decide di fischiare il calcio di rigore, effettivamente c'è il tocco di mano ma l'errore arbitrale della decisione perché il fallo è di prima, si stacca quindi troppo in fretta dalla barriera il giocatore deriva Ligure, giusto la munizione ma da far ripetere il calcio di punizione.